Ciao amici, benvenuti nel nostro canale, siamo Ale e Piero Qui troverete tutti i dominelli più fighi del web Li caricheremo tutti in compilation e inoltre troverete anche tutti i video che abbiamo girato su TikTok Ogni settimana uscirà un nuovo video Quindi mi raccomando, andate a commentare, mettete mi piace, attivate la campanella e iscrivetevi al canale Se avete nuovi indovinelli, iscrivetevi qui E se avete nuovi indovinelli? E se avete nuovi indovinelli? Beh già lo sapete ragazzi, se avete nuovi indovinelli iscrivetevi qua sotto che noi li faremo Ma così me ne tolgo Tac Ale in pie, iscriviti al canale e attiva la campanella Come fu costruita la città di Troia A suon di bambini Mi verrebbe da dire a p***ate, ma questa roba qua non metterla Allora come è il detto, la città di Roma fu costruita Mattone dopo mattone Quindi la città di Troia Troia dopo troione Mattone dopo mattone? No, c'è qualcosa che mi sfugge La città di Roma è stata costruita mattone dopo mattone La città di Troia è stata costruita troione dopo troione No, no, vabbè questa è pesante Non la capisco Siete vicini, bisogna cambiare solo la consonante Mattone, battone Battone dopo battone Battone dopo battone Ragazzi, aspetta un secondo, vado a ridere un attimo in bagno Se mi guardi in faccia del 13 non c'è traccia Chi sono? Lotto Dove l'hai visto l'otto nella mia faccia? Il 13 Sto cercando di capire Ma perché mi guardi in faccia? Ma tu mi hai detto se ti guardi in faccia? Se mi guardi in faccia Ho capito Stai in modo Non mi toccare Non mi toccare Dobbiamo mantenere le distanze Ah, il 13 Ah, il 13 Se mi guardi in faccia del 13 non c'è traccia No, aspetta un ragionamento C'è un ragionamento E' come se io ti dico Se mi guardi in faccia Diare non c'è traccia Perché sono io la persona Sono diare Ovviamente non mi posso guardare No, no Non c'è secca proprio una minchia Perché mi guardi la bocca? Non so che stanno i denti 33 Quanti denti ci sono? 33 Non c'è zecca un cazzo Tesman challenge Me miro I la mire Ah, ah, ah Ah, ah Sonri oile sonri Ah, ah Ah, ah Divio like Vittà bailan Eh, ah 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 Ah, ah 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 Eh, ah Eh, ah E me la lleve alla pista E agli fuori che mi di cuenta Ma che bro, bro Ti stai buttando Basta Ma quanto lo riempi? Non si ferma Che ya era tan Oh Shit Che Bonita Lo do involucrao Bailando pegao Do quel po' giudao Si parale a lo che t'ai nallao Bailando a preta Quando parli lo ronti Cos'è? Quando parlo lo rompe Quando parli Se tu una persona Parla Lo rompe Lo sputo Che persone frequenti Che sputo Lentre parlano C'è gente che quando parla Sputa E quindi ti rompe Io ne ho rotti tanti Anche i peni Ne ho rotti tanti Tu pure Assai Tu pure Quando parli lo rompi Cos'è? Mamma Indovinello al volo Ci sei? Se parli Lo rompi Cos'è? Parlo lo rompo Che è uno specchio qua? No Che è? A te ti rompo se parli No Mi arrendo Il cazzo Ehi Ehi L'ortacci tua Per un elefante Che ha la diarrea Cosa ci vuole? Guarda che faccia Non se l'aspettava Una pastiglia Che sei elefante Non mi dico Cosa ci vuole? Per un elefante Che ha la diarrea Non ti permettere Di nominare Un elefante Non ti permettere Mai più Mai più Che cosa ci vuole? Non è che mai visto un elefante Con la diarrea Alla diarrea Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Qualcosa per farlo star meglio? Però in quel momento C'è la diarrea Cosa ci vuole? Sti cazzo di elefanti Come cosa ci vuole? E allora che? Io non ce capisco più un cazzo Tu quando hai la diarrea Di cosa hai bisogno? Nel vater? Lui di cosa hai bisogno? Nella vicina? Oh merda Oh merda Che cosa hai bisogno? Di un sacco di spazio Quello che hai ideato Sti sindominari Su di un elefante Deve essere tipo Elefantofobbico 3 2 1 Mission failed E' più corretto dire 8 più 7 fa 16 8 più 7 fanno 16 Mi sta venendo questa crisi potente Fa Perché? Perché? Ah non lo so io Ma è uguale Perché è uguale? No fammi connettere Nani? Omae wa Mou shindeiru Vattene Colpo del collo Che si rompe Ma che vedi? Ma 8 più 7 Ma sei uguale No è uno e l'altro Non è uguale Fa più 16 Fa più 16? What the fuck What the hell Fa 15 Chi me l'ha fatto fare a me? Immagina una strada Da percorrere Ok? In questa strada Pianino e Adagino Ci sono 4 bambini Che vanno a scuola Come si chiamano I 4 bambini? No Dai Devo rimettere Strada Lunga Ok Pianino e Adagino 4 bambini Si recano a scuola Come si chiamano Pianino e Adagino Ci ha senso secondo te? No Riflettici prima di dire minchiate No e allora Ci sono Immagina una strada Pianino e Adagino Si recano 4 bambini Come si chiamano Si chiamano Pianino e Adagino E gli altri due? Voglio sapere come si chiamano i bambini Pianino e Adagino In questa strada Ci sono 4 bambini Come si chiamano? Pia Mino Adagino Bisogna succhiarlo Per bagnarlo Bisogna spingere Per metterlo dentro E bisogna leccarlo bene Per tenerlo fermo Che cos'è? Il cazzo Non dire le parola No 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 Già c'ho i pensieri che Cos'è quella cosa che succhi per bagnare? Un gelato Un calipo Quello con la stecca Pensavo alla supposta Tu la supposta da succhi? Com'è? No no Cioè da così fa così? Esattamente Mamma dai Una cosa esiste Non sei un cazzo Non sa Ehi Rocco Io non lo so Non posso Sì tu pure puoi succhiarlo Il dito? No Tu ti succhi il dito Devi metterlo dentro un buco Ah ok Mamma Ma se ci sei arrivata prima di Ale Sì ci sono Che cosa? Il filo nel lago Grande Non ci credo Forca troia Ehi Ehi Beh Io nella mia testa ho pensato tutt'altro A cosa hai pensato? Al cazzo Bro No dai Cos'è quella cosa che entra dura ed esce molla? Entra dura Quale mollo? Cioè cosa vuol dire mollo qua? Non capisco io Sicuramente non devo pensare male Perché cosa stai pensando? C'è chi c'è la lunga e grossa C'è chi c'è la lunga e grossa Lunga e stretta E che ho un unico pensiero in testa che devo Che devo togliere Non pensare male Non pensare male Non pensare male Entra duro o entra dura? Dipende Può essere uno Possono essere tanti C'è chi c'è la lunga C'è chi c'è la corta C'è chi c'è la fina Non posso rispondere a certe cose su TikTok E si mette dentro Diciamo un contenitore Ok L'acqua No La pasta Non è preparato professionalmente Commenta, condividi e iscriviti al canale E la tua vita non sarà più la stessa C'è chi c'è chi c'è chi c'è chi è Grazie per la visione!